Ieri, come parecchie volte di domenica, ho preso mia moglie e la mia macchina e sono andato a mangiare in un ristorante ad Arosio, qua vicino a casa mia, che si chiama San Marco. Sono arrivato, mi sono seduto e come accade, spesso volentieri, tre persone mi hanno chiesto la fotografia, due ragazze e un ragazzo. Di queste tre persone, una ragazza tale Laura Cremaschi mi ha chiesto di poter fare un selfie solo con me e ci mancherebbe altro. L'ho fatto e mentre mi facevo questo selfie mi toccava le collane, mi accarezzava il collo, vabbè, comunque sono cose che possono succedere e mi sono seduto per mangiare. A un certo punto mia moglie va al bagno e lascia la sua sedia libera e questa ragazza si siede al posto di mia moglie e mi dice che lei fa l'influencer che lavora in televisione, ha lavorato davanti a un altro e mi chiede una mano. Io molto gentilmente le dico guarda non c'è problema, questa è la mia mail, poi tranquillamente scrivimi una mail e analizzo le tue cose e ti faccio sapere, cosa che faccio quasi sempre perché so di essere una persona cordiale. Ecco, mia moglie arriva dal bagno, lei nonostante mia moglie fosse lì di fianco a lei, di fianco alla sua sedia, rimane seduta e fa attendere mia moglie due minuti tanto che io dico a lei guarda ti presento mia moglie, mia moglie Vilma, vabbè poi lei se ne torna al posto, ovviamente mia moglie mi fa il terzo grado come giusto che sia, mi bastona, mi dice che sono sempre solito, tutte le varie cose che mi dice sempre e io le dico guarda in maniera cordiale e mi ha chiesto una mano, allora per risolvere velocemente la faccenda le ho dato la mail, ok? Gli ho dato la mia mail, l'aziendale mi scriverà, vabbè mia moglie se la prende un po' tanto se la prende sempre con me dalla mattina alla sera quindi non c'è problema. A un certo punto io vado a fare la pipì perché ho avuto 10 litri di acqua quindi vado a fare la pipì e vado in bagno e faccio le mie cose. A un certo punto esco dal bagno e come per magia, il bagno è praticamente sottoterra, per cui come per magia fuori dal bagno c'era lei c'era Laura Cremaschi che mi aspettava con il telefono in mano, poteva aspettarmi benissimo su al suo tavolo, poteva aspettarmi davanti al mio tavolo non ho proprio mi aspettato fuori dal bagno in una situazione appartata col telefono in mano e siccome ho 39 anni e ho vissuto 25 anni nel mondo delle discoteche e sono un uomo che comunque ne ha viste di tutti i colori una donna che mi aspetta fuori da un bagno con la scusa del selfie, col telefono in mano mi sembra alquanto equivoca la situazione, allora io tiro dritto, faccio finta di niente, tra l'altro sono anche un po' sordo quindi potevo anche non aver sentito quindi lei mi dice Francesco, Francesco, il selfie è venuto male, ne possiamo fare un altro, Francesco, Francesco io tiro dritto, appena sono dentro la sala dove ci sono tutti gli altri tavoli, a quel punto io dico sì sì vieni perché ci sono delle scale guarda vieni su, la foto la facciamo qua se vuoi, la foto la facciamo qua, niente lei sale, il problema è che in quel momento mia moglie avendo visto lei che appena io mi ero alzato per andare in bagno anche lei si era alzata per venirmi dietro, mia moglie era lì e ha visto tutta questa situazione e si è incavolata come una bestia e dopodiché tutto quello che è accaduto è quello che avete visto prima cosa che voglio dire è visto che io male non fare paura non è vera, non ho nessun tipo di problemi tale Laura Cremaschi, se quello che sto dicendo non è vero puoi anche denunciarmi tranquillamente querelami, vai tranquilla, non c'è problema Seconda cosa, questo è un appunto, un mio appunto, fortunatamente nel 2019 una donna per poter far vedere che vale non ha bisogno di utilizzare le tecniche che si usavano negli anni 80, negli anni 90 o nei primi anni 2000 perché gli uomini, questo parlo soprattutto per la categoria degli uomini che conosco quelli anche un po' più giovani sono totalmente cambiati quindi non è che si fanno fortunatamente non siamo più negli anni 80, 90 o nei primi nel 2000 e al giorno d'oggi le donne possono contare sul loro talento per poter spaccare nel mondo del lavoro e questo parere personale possono anche evitare di mostrare altre cose perché realmente non ce n'è bisogno e il mondo fortunatamente è cambiato o sta cambiando in meglio Terza cosa, la reazione di mia moglie forse è stata sopra le righe ma siccome mia moglie è una donna parlante e reputo anche molto intelligente lo dirà lei, dirà lei perché si è sentita di reagire in questo modo comunque ribadisco il concetto, visto che sono abituato a dire la verità nuda e cruda che sia alla signora e signorina Laura Cremaschi se tutto quello che ho detto non corrisponde al vero vicino a casa sua sicuramente ci sarà una stazione dei carabinieri potrà entrare lì a denunciarmi e a querelarmi per me non c'è nessun problema e invece siccome la televisione del dolore ovviamente non aspettava altro e mi stanno già chiamando per carpire, sapere la verità e per invitarmi nelle loro trasmissioni a voi, tv del dolore vi dico non vengo evitate anche di chiamarmi se volete sapere cosa è accaduto potete guardarvi tranquillamente queste stories anzi vi do un consiglio siccome Laura Cremaschi quando si è seduta di fianco a me al mio tavolo al posto di mia moglie mi ha chiesto espressamente mi ha detto espressamente che il suo sogno è quello di arrivare a un milione di followers perché se non arrivi a un milione di followers i brand non ti danno i soldi questo è quello che ha detto lei facciamola arrivare a un milione di followers quindi invitiamo lei così almeno racconterà la sua versione e avrà come diceva Andy Warhol i suoi cinque minuti di celebrità ora non vorrei fare della dietrologia spiccia ma riguardando un po' tutti i video che ci sono in giro mi sto facendo una domanda ma com'è possibile che ci fosse qualcuno a riprendere quella situazione e l'ha ripresa così bene nonostante tutto fosse estemporaneo cioè tutto è successo in una frazione di secondo coincidenze? no non credo proprio ai posteri l'ardua sentenza guardate anche voi e ditemi voi com'è possibile che ci sia uno col telefono acceso a riprendere tutta una situazione che è nata in una frazione di secondo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti